Due morti e cinque feriti da colpi di arma da fuoco esplosi davanti a un teatro in Virginia al termine della consegna dei diplomi agli studenti. Centinaia di partecipanti in fuga, nel panico, genitori e figli in lacrime. Il sospettato è un ragazzo della stessa età o di poco più grande, un 19 anni che ha tentato di allontanarsi a piedi ma è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Almeno una delle vittime conosceva l'aggressore. Diverse le pistole sequestrate.